anastasia tornerà ad esibirsi in italia per festeggiare i suoi 22 anni di attività la cantante ha annunciato un tour in europa che il prossimo anno farà tappa anche nel nostro paese il nome scelto per la prossima tourne è i'm out lockdown the 22 anniversary che rievoca il titolo del suo singolo di debutto i'm out in love e al ritorno dei concerti live dopo il lockdown anastasia ha condiviso una serie di post su instagram facendo sapere che il tour farà tappa in italia a settembre del 2022 e interesserà milano roma catania firenze e bassano del grappa ciao